Una proposta, ma non un progetto, perché al momento privo delle autorizzazioni necessarie in un'area di tutela assoluta in larga parte di proprietà della Comunanza Agraria, è l'opinione espressa dal CDA dell'ENTA Pennino Gualdese in merito all'OASI Rocchetta, illustrata in regione e oggetto del pomeriggio di martedì 18 gennaio alle ore 15.30 di una presentazione pubblica su invito al Teatro Talia. La Comunanza Agraria non parteciperà a quella che ritiene solo l'illustrazione di un'idea e non di un progetto che deve nascere invece da un tavolo tecnico dove siedano tutti gli eventi diritto, in primis proprietari dell'area e istituzioni preposte all'autorizzazione al controllo, privati concessionari. Nadia Monacelli, presidente di Missionaria, ma nell'occasione della conferenza stampa portavoce del presidente Mauro Guerrieri, impossibilitato a partecipare, ha ribadito la volontà di Appennino Gualdese di andare al recupero e valorizzazione della gola della Rocchetta, ma ponendo delle precondizioni alla partecipazione a qualsiasi tavolo progettuale, ovvero il completo abbattimento dei cabinotti dei pozzi e il ritombamento degli stessi, di cui la Comunanza ha chiesto più volte senza ottenere, la documentazione autorizzativa. Nel merito della proposta dell'OA, Simona Celli ricorda che nell'area a monte, dove dovrà essere realizzata la condotta idrica per collegare i pozzi di prelievo R5 ed R6, non c'è disponibilità, in qualità di proprietari dei terreni, a concedere alcun passaggio e avvalle e ancora sub-iudice la proprietà dell'immobile da destinare al museo, la cui riqualificazione non è comunque ricompresa nell'investimento da 4 milioni di euro. Critiche all'amministrazione comunale, come alla Regione, per un atteggiamento, hanno detto di parzialità sull'argomento e incuranza nei confronti della Comunanza, ma anche dei cittadini che da agosto presidano l'area delle fonti per manifestare il proprio dissenso.